La realtà di oggi è frammentata, è inafferrabile e anche molto strumentalizzabile. Può essere fortemente deformata. Questo non ha a che vedere con il rapporto tra diplomazia e verità in senso stretto, però ha a che vedere con la realtà multiforme e complessa del mondo moderno. E indubbiamente questo rende ancora più difficile il lavoro del diplomatico e anche definire le linee di una politica estera. E' evidente che in ultima analisi la verità della diplomazia consiste nella capacità di dare un equilibrio al mondo, di dare un equilibrio alle nazioni, fondata sul rispetto reciproco. E questo è estremamente difficile e complesso nel mondo moderno, anche per la difficoltà di interpretare gli eventi. E questo credo sia davvero la sfida dei prossimi anni.